I percorsi dello Zafferano dell'Aquila, DOP. E questa è la nuova mappa per scoprire luoghi e vivere esperienze nelle terre custodi dell'Oro Rosso d'Abruzzo. Promossa dall'Associazione Culturale Le Vie dello Zafferano e patrocinata dai comuni dell'Aquila, Barisciano, Caporciano, Navelli, Fagnano Alto, Fontecchio, Prata d'Anzidonia, Poggio Picenze, San Pio delle Camere, Villa Sant'Angelo e dalla Camera di Commercio dell'Aquila nasce uno strumento per conoscere i luoghi dello Zafferano, una carta che segnala al turista il territorio di produzione dell'Oro Rosso e che contiene un invito a scoprire luoghi soggerendo itinerari tra l'Aquila, la Piana dei Navelli e la Valle Subequana. Al progetto hanno partecipato 51 aziende, 10 nella ristorazione, 26 nel campo dell'accoglienza, 8 nell'offerta di esperienze, divertimenti, sport, 17 aziende tra artigiani, produttori agricoli e specialità gastronomiche. A corredo della mappa c'è la carta dello Zafferano, una carta sconti che sarà distribuita gratuitamente nelle stesse aziende, ai propri clienti, i quali potranno muoversi in una sorta di comunità virtuale di accoglienza dello Zafferano e poter riscuotere per i loro acquisti sconti e privilegi. Uno strumento che sarà utile ai visitatori ma anche agli utenti qua locali per vivere il territorio con nuove esperienze e conoscendolo un po' più a fondo. Ci sono tre itinerari, uno per l'Aquila, uno per la Piana dei Navelli e l'altro per la Valle Subequana, riporta i borghi dello Zafferano dell'Aquila e le loro emergenti artistiche. Questa mappa contiene un principio attivo, la forza di lavorare insieme, 51 attività che hanno sostenuto questa iniziativa e insieme hanno cominciato a collaborare. Un'iniziativa che mette insieme tante anime e comuni diversi, tutti sotto il cappello dell'Oro Rosso d'Abruzzo. L'Unione fa la forza, finalmente tutti i comuni della DOP e tutta una serie di aziende, imprese che producono, comunque che fanno turismo attraverso la ristorazione, l'ospitalità e quant'altro, si sono messi insieme e cominciano a ragionare su un potenziale prodotto da offrire ai turisti. Perché purtroppo è inutile che ci nascondiamo, in questi territori negli anni passati sono mancate le sinergie, le forze messe insieme e purtroppo non abbiamo mai fatto risultato. Oggi forse è un inizio nuovo. È un'ottima iniziativa alla quale noi siamo stati ben felici di stare a fianco come Camera. La Camera di Commercio è fortemente impegnata proprio nella tutela e nella valorizzazione della DOP dello Zafferano, con il comitato che mi onoro di presiedere, in cui sempre 70-80 aziende ogni anno producono Zafferano con la certificazione DOP. Grazie. Grazie.